Delle opzioni ragazzi e della leva che vi permettono di applicare le opzioni ho un esempio che proprio in questi giorni si è andato a verificare qualche settimana fa avevo, no, qualche giorno fa si andrà a cercare sul mio canale e vi avevo parlato di come utilizzare le strategie sulle opzioni per cercare di ricavare il massimo dai movimenti di mercato e vi avevo appunto parlato di comprare opzioni e l'avevo fatto su alcuni durante quel periodo del crash che c'è stato sul mercato azionario americano c'erano dei titoli che a me interessavano e che secondo me erano scesi molto proprio a frutto, a valle di questo crash che si era verificato e vi avevo detto che al primo rimbalzo avrei valutato immediatamente di chiudere le posizioni Bene, andiamo a vedere un po' che cosa è successo, facciamo un update per spiegarvi ancora meglio, l'obiettivo ragazzi non è farvi vedere quanto ho guadagnato, quanto ho perso, quanto sono bravo ma semplicemente quanto sono potenti come strumento finanziario le opzioni e ovviamente non parlo di opzioni binarie che sapete bene ormai come la penso, non devo più esprimermi su questo argomento, quindi andiamo a vedere insieme il grafico, l'esempio concreto lo vedremo live sul mio account di trading che utilizzo Ragazzi se questo video vi è piaciuto, se l'argomento vi piace, l'argomento delle opzioni fatemelo sapere perché in questo modo posso, lasciandomi un like, in questo modo posso continuare a parlarne e lasciatemi un commento per dirmi se anche voi avete sfruttato con una strategia specifica questo momento del flash del mercato e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, ragazzi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao Bene ragazzi allora direi di partire da farvi vedere qual è fu la considerazione che avevo fatto e la considerazione che avevo fatto l'andate a trovare anche sui video passati, su qualche video fa di 4-5 giorni fa perché ci trovavamo in questo momento del mercato, quando il mercato aveva subito questo crash molto veloce e in particolare guardate con questa accelerata qui, con queste due candele, queste due giornate vi ricordate vi ho parlato del crash del Dow Jones che aveva avuto una flessione, in perdito ovviamente percentuale che non aveva dal 2008 il periodo della crisi dei subprime, quindi importante e vi avevo detto, ragazzi questi sono momenti molto importanti da cavalcare, perché? perché succedono due cose, la prima cosa che succede è che c'è alta volatilità, quindi si verifica alte volatilità sul mercato in particolare vi ricordatevi ho parlato della VIX, dell'indice della paura, che misura appunto la paura e quello ci dà la volatilità che c'è sui mercati e in quel giorno aveva raggiunto livelli altissimi quindi alta volatilità, il mercato diciamo che flette, tende a flettere più di quello che deve perché? perché c'è paura, perché entrano in gioco le emozioni, ci sono tanti investitori che chiudono le loro posizioni e quindi quello che succede è che il prezzo arriva a dei livelli che di solito sono più bassi di quelli che dovrebbero io avevo individuato tre differenti mercati azionari, Apple in primis perché era arrivata ad un prezzo molto molto basso ai 155 dollari, quindi guardate, Apple aveva perso in quel periodo, andiamola un attimo a misurare in termini percentuale pensate, aveva perso il 16%, dal massimo al minimo aveva fatto un meno 16% che, qui non stiamo sul mercato delle criptovaluti non è il mercato di Bitcoin, questi sono numeri enormi, cioè grandi, importanti e aveva, era andata a fermarsi su una struttura che avevo segnato, che era questa che in passato ha agito prima come resistenza e poi come supporto e quindi qua, diciamo così, mi ero detto, eravamo in questa giornata qua c'era esattamente questa, si stava formando, completando questa candela quindi eravamo, era il 6 febbraio ragazzi, diciamo che la candela era, aveva cominciato a dare non era così grande e verde, ma aveva cominciato a dare i primi segni di un possibile rimbalzo e allora che ho fatto? qui ragazzi avrei potuto fare due cose volevo entrare, perché Apple è un mercato in cui credo a quei prezzi, a 150 dollari 155 dollari era un ottimo prezzo e quindi qui sarei potuto entrare banalmente acquistando Apple, comprando le azioni di Apple quindi immaginate che a 160 dollari perché un'altra mia regola ragazzi è non comprare mai quando il prezzo sta scendendo in maniera forte voglio sempre vedere prima un segnale di ripresa perché? perché c'è il rischio, altrimenti che il prezzo possa continuare a scendere ancora la palla di cristallo non ce l'ha nessuna quindi io dico sempre, è una balla il time to market tutti i trader che vendono corsi e segnali dicendo che loro hanno l'indicatore che dà il time to market il time to market vuol dire azzeccare esattamente il punto più basso nel quale entrare in un determinato mercato bene, quello è impossibile, altrimenti se lo potevamo tracciare eravamo tutti quanti ricchi quindi aspetto sempre un segnale di ripresa il segnale di ripresa c'è stato da questa candela quindi questa candela mi ha detto c'è un supporto, il prezzo ha fatto il crash è arrivato ad un buon prezzo, è un mercato sul quale voglio entrare quindi capite tutte queste considerazioni che metto insieme non è che solo perché è sceso allora sono entrato no, il mercato è sceso ha dato una prima prova di, diciamo così, di ripresa ha rimbalzato su una struttura importante è un prezzo che conoscendo l'azienda e i fondamentali dell'azienda qui dietro c'è tutto uno studio perché come al solito bisogna crearsi come trader un vantaggio statistico bene, c'è tutto uno studio e quello che ho fatto ho cominciato a valutare l'entrata bene, avrei potuto come dicevamo prima entrare comprando le azioni a 160 dollari se così avessi fatto adesso, in questo momento a che punto sarei di guadagno? vediamo, eh avrei, guardate adesso avrei fatto un più 8% ok? quindi più 8% vuol dire in 1, 2, 3, 4, in 5 giorni che non è affatto male per il mercato azionario ragazzi però insomma avrei fatto meno di 16 dollari di guadagno perché se fossi se avessi comprato un'azione ok? una share di Apple a 160 dollari attualmente fare l'8% se avessi fatto il 10 avrei fatto 16 diciamo che orientativamente ho fatto 14 dollari di guadagno circa ok? vado a mente capite bene che sì, ok è un movimento grande ma purtroppo 14 dollari non sono niente per guadagnare di più rispetto a questo incremento che avrei dovuto fare avrei dovuto comprare più di un'azione quindi avrei dovuto comprare per esempio 100 azioni a 160 dollari 100 shares 100 shares a 160 dollari che cosa vuol dire? fatemi cancellare un po' di cosette qua anzi no teniamole perché così facciamo il confronto 100 shares vuol dire 160 1.600 16.000 per fare un guadagno di quanto? quanto è l'8% ma questa volta di 16.000 è 1.400 quindi avrei dovuto avere un capitale di 16.000 dollari in realtà in base al profilo di rischio avreste dovuto avere un capitale molto più grande per investire 16.000 dollari in apple comunque avrei dovuto investire 16.000 dollari per tirar fuori 1.400 di guadagno che continua ad essere non male ragazzi il problema è qua il problema è avere 16.000 cioè bloccare 16.000 dollari di di capitale perché quelli li blocchi perché hai comprato per guadagnarne 1.400 e qui interessante ma si può fare di meglio in che modo? sfruttando le opzioni perché le opzioni soprattutto quando c'è alta volatilità ok? volatilità tendono a poterci far far guadagnare molto perché sfruttano l'effetto hanno un effetto leva quindi che cosa avevo fatto? andiamocelo un attimo a ricordare vi prendo qua il grafico allora guardate avevo comprato 3 azioni di scusate 3 opzioni di apple se non sapete che cosa sono le opzioni ragazzi ho fatto un video qualche giorno fa settimana scorsa forse al massimo 10 giorni fa in cui parlo vi faccio una intro alle opzioni quindi vi consiglio di andarvelo a guardare quello che avevo fatto avevo comprato 3 call avevo comprato 3 call e comprare una call vuol dire che la visione che abbiamo sul mercato è rialzista e guadagno nel caso in cui il mercato è rialzista ovviamente quindi avevo andiamo a vedere dove avevo comprato avevo comprato con scadenza 20 aprile una call a 170 dollari che cosa vuol dire una call a 170 dollari ragazzi vuol dire che la mia visione mi portava a pensare che apple il valore di apple potesse andare sopra i 170 mila dollari allo scadere delle opzioni il 20 aprile quella era la scadenza ogni opzione era una scadenza e avevo comprato 3 contratti quando si comprano call sapete si sa immediatamente qual è il rischio massimo a cui ci si espone però il guadagno può essere infinito e con l'effetto leva si può guadagnare molto di più quindi che cosa è successo torniamo qua è successo che guardate io adesso vedete che guardate questa è la riga di apple vedete adesso me ne rimane solo una di opzione ma perché me ne rimane solo una ne avevo comprate 3 perché ragazzi ho chiuso avevo il take profit eccolo qui e ho chiuso le posizioni ne ho chiuse 2 avevo 3 contratti 2 li ho chiusi e uno lo lascio correre guardate ragazzi ho guadagnato da da quel più 8% ho guadagnato 817 dollari il conto è in dollari con 2 contratti 2 contratti e avevo un rischio massimo fatemelo andare a vedere quindi quello che ho investito e che potevo perdere 4 per 3 1200 quindi il mio rischio massimo era di 1200 dollari ok? perfetto questo è al massimo se andava tutto storto alla scadenza al 20 aprile avrei perso 1200 dollari ho chiuso già 2 posizioni dopo appena ragazzi dopo 6 giorni da quando avevo aperto i contratti in 6 giorni già mi sono messo da parte già ho portato a casa 817 dollari 817 dollari ma non è tutto perché adesso sto lasciando correre ancora un contratto vedete che questo contratto qui che rimane aperto sta guadagnando ancora 464 dollari ragazzi da quando ho aperto l'opzione ho guadagnato il più eccolo vedete qua scritto il 118 per cento virgola 9 ho fatto un più torniamo sul grafico ho fatto un più 119 per cento rispetto con le opzioni ovviamente rispetto al più 8 per cento che avrei fatto se fossi entrato a mercato comprando direttamente le azioni quindi se avessi comprato le azioni avrei guadagnato l'otto per cento ad ora se avessi invece aprendo le opzioni ne ho guadagnati 119 ma la cosa interessante qual è è che qua per guadagnare l'otto per cento e fare diciamo i guadagni simili che ho fatto adesso avrei dovuto comprare non una azione a 160 dollari ma abbiamo visto prima avrei dovuto comprare 16.000 dollari di azioni 100 azioni di apple per avere con questo 8 per cento circa 1400 euro dollari di guadagno qui con le opzioni andando a rischiare un massimo di 1200 ok non 16.000 1200 ragazzi mi sono portato a casa il 119 per cento capite la potenza della leva che potete usare con le opzioni questa è una leva sana e soprattutto ragazzi le opzioni sono matematica quindi si può calcolare molto bene in base al vostro money management quello che potete andare a diciamo a investire e ci sono tante tante strategie avrei potuto scegliere anche una strategia che mitigasse ancora di più il rischio in che modo vendevo una call a 170 qui facevo una buy call a 170 e ne vendevo una per esempio a 167 virgola 5 dico per dire in questo caso avrei fatto un vertical spread avrei guadagnato di meno ma avrei anche rischiato di meno potete veramente fare tantissime cose con le opzioni ecco perché lo dico sempre nel mio corso ne parlo per ore e ore e ore di opzioni perché sono il mio strumento preferito guardate qua qui ne vedete tre di quel giorno avevo aperto opzioni su Apple Activision un'altra azienda che seguo che fa videogiochi e Facebook Facebook è in perdita 970 dollari sto perdendo ho sempre tre contratti aperti e andiamo a vedere un po' Facebook che cosa sta facendo perché sto perdendo allora per ora sono in negativo ma la scadenza è il 20 aprile ce n'è ancora parecchio di tempo quindi questa è la cosa bella delle opzioni che magari il prezzo non ha girato come avrei voluto il ragionamento che ho fatto su Facebook ragazzi era veramente analogo quindi ho comprato il 6 qui quindi il prezzo era sceso meno che Apple era sceso io sono entrato qui fatemi vedere il contratto che ho comprato il prezzo 195 dollari quindi ho comprato qui sopra 195 dollari scadenza 20 aprile è solo che il prezzo che stavo qui ho comprato questo giorno qui il prezzo invece di salire ha girato è andato giù adesso si sta un po' riprendendo quindi eccolo qui guardate non a caso che cosa ha fatto ha rimbalzato su questa struttura sì è vero adesso sto perdendo in realtà io già so il massimo che posso perdere guardate ve lo calcolo il massimo che posso perdere è 4,92 per 3 quindi posso massimo perdere 4,92 per no ho sbagliato scusate 4,92 per 3 al massimo posso perdere 1476 euro questo è il mio massimo rischio 1476 dollari ho detto euro ma ho sbagliato in quale caso però nel caso in cui il prezzo entro il 20 aprile non superi i 195 dollari ma adesso c'è c'ho tutto il tempo ancora per vedere il prezzo salire quindi sì è vero adesso sto flettendo sono in perdita ma sono ancora lontano dalla mia perdita totale il prezzo è rimbalzato quindi ce l'ho il segnale di ripresa del mercato poi posso anche decidere di chiudere magari quando invece di perdere adesso sto perdendo circa 940 dollari posso anche decidere di chiudere in perdita ma magari quando sta qui su il prezzo intorno ai 400 dollari cioè con le opzioni potete veramente fare quello che volete fermo restando che il prezzo potrebbe tranquillamente superare tornare a questi massimi qua entro il 20 aprile ragazzi manca un mese al 20 aprile e lo stesso discorso l'ho fatto con Activision l'altra di cui eccola qui Activision anche qui vedete comprata qui poi però il prezzo ha girato adesso ha rimbalzato qual è il prezzo che ho messo per Activision 70 dollari quindi il prezzo vedete che sta praticamente adesso a 70 dollari infatti sto guadagnando poco 100 dollari ma adesso il prezzo continua a salire e sembrerebbe proprio che guardate che cosa ha fatto qua il prezzo ha praticamente rimbalzato su questi livelli qui che aveva usato come resistenza e adesso come supporto qui ho ancora grandi margini di guadagno nel momento in cui il prezzo sale quindi diciamo che se la vostra visione è rialzista se sfruttate la volatilità se sfruttate anche il VIX e quindi sapete leggere quando il mercato è in panico diciamo così ragazzi le opzioni sono lo strumento per fare trading migliore al mondo veramente è possibile con capitali piccoli se sapete esattamente quello che state facendo ragazzi guardate bene le opzioni sono uno strumento non così semplice vanno studiate va fatta tanta pratica quindi non sto dicendo è facile guadagnare soldi con le opzioni assolutamente no e quando parlo di opzioni non parlo di opzioni binarie che per me sono mi dispiace dirlo ragazzi sono alla pari delle scommesse quindi le opzioni invece quelle vere sono uno strumento complesso non impossibile da studiare ma che va studiato per trarne il massimo beneficio ma quando lo padroneggerete saprete veramente applicare tante strategie diverse ai vari scenari di mercato ragazzi fatemi sapere se questo argomento vi piace lasciatemi un like mettetemi un like in modo tale da poter da poter continuare su questo argomento perché capisco che l'argomento delle opzioni vi interessa mettetemi un commento e ditemi se anche voi avete sfruttato come me magari con strategie diverse di strategie ce ne sono tantissime nelle con le opzioni ci sono le naked che sono appunto gli acquisti nudi ci sono gli strangle gli straddle i butterfly i vertical spread ce ne sono davvero davvero tante c'è l'imbarazzo della scelta e a seconda di come si sta comportando il mercato sceglierete la vostra strategia bene dai ragazzi è tutto come al solito grazie per l'attenzione buon trading a tutti ciao ciao